Le aziende del settore vivaistico pistoiese guardano con una certa apprensione all'evolversi della situazione sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19. Tuttavia per il momento non ci sono segnali che possano far pensare ad una imminente chiusura delle frontiere con conseguenti ripercussioni economiche importanti come avvenuto la scorsa primavera. C'è dunque un cauto ottimismo e la fiducia nelle iniziative del governo affinché siano evitate conseguenze drastiche per un settore che esporta oltre l'80% della propria produzione. Oggi non ci sono segnali preoccupanti o perlomeno sono preoccupanti per quanto riguarda la sfera privata non tanto per quella che riguarda le esportazioni su diciamo i problemi che si sono manifestati all'inizio del Covid all'inizio di quest'anno non si stanno manifestando per ora. C'è un po' di timore però incrociamo le dita adesso sappiamo come funziona questa malattia, sappiamo come poter contenere gli eventuali problemi e confidiamo nel fatto che non scoppi un altro lockdown come è successo all'inizio dell'anno. Diciamo che siamo ottimisti nei confronti delle scelte di governo che dovrebbero limitare certi assembramenti e certe iniziative che possano essere fonte di contagio ma per quanto riguarda i canali commerciali e le esportazioni dei prodotti per adesso non sembrano esserci problemi.